L'estate ancora non è finita ma ad Arezzo si scaldano già i motori della città del Natale. Dal 16 novembre al 1 gennaio 2020 il Centro Storico tornerà infatti a vestirsi a festa per la manifestazione più magica dell'anno, giunta la sua quinta edizione. Alla borsa merci di piazza Risorgimento, l'amministrazione comunale Aretina, la Fondazione Inturre e la Confcommercio hanno così ufficialmente presentato il progetto per l'edizione 2019. La città del Natale ha generato un numero impressionante di presenze turistiche, abbiamo calcolato quasi 60 milioni di euro di ricaduta in 4 anni, quindi è un'attività che dobbiamo assolutamente coltivare e non perdere, anche perché le città accanto a noi si stanno attrezzando e stanno crescendo tutte. Quindi abbiamo presentato le novità ma soprattutto abbiamo chiesto una mano alla città in quanto la Fondazione Arezzo Inturre quest'anno si accollerà anche la gestione delle luminarie perché una città come Arezzo non si può permettere di avere 100 luminarie tutte diverse, quindi aiuteremo un po' a migliorare anche quello che è il decoro urbano di tutte le strade periferiche, in più tante novità, il prato che raddoppiano le casine e tante attività collaterali. Novità anche per quanto riguarda la parte bassa del centro Aretino che ospiterà da quest'anno le casette di legno in tutto e per tutto uguali a quelle nella parte alta della città. Diciamo è strategico la riqualificazione del mercato di San Jacopo e Risorgimento che diventerà il polo della parte bassa della città e lavoreremo per comunicare al turista di visitare tutta la città, quindi partendo da bastioni arrivando ovviamente al prato. In più stiamo cercando anche di migliorare quella che può essere la lateralità del Natale in modo che questa molle di persone possa sfruttare tutte le nostre attività commerciali del centro storico.